Il Comune sta facendo la mappatura della conoscenza dell'italiano tra gli studenti stranieri. La rivelazione coinvolge 5.000 alunni. A 77 anni dalla morte il soldato Pacini è tornato a casa e i suoi resti sono stati tumulati con quelli della moglie. 1.500 firme per chiedere di aprire un museo etrusco a Prato nel parco archeologico di Gonfienti. Partita casalinga per il Prato che domani affronta la rivelazione del campionato Sasso Marconi. Buonasera dal telegiornale di TV Prato. In primo piano la mappatura della conoscenza dell'italiano tra gli alunni stranieri delle scuole primarie e medie. La rivelazione che sta facendo il Comune coinvolge 5.000 studenti e servirà a calibrare gli interventi per una migliore didattica e inclusione. Vediamo. Terminerà a dicembre la mappatura dei livelli linguistico comunicativi di tutti gli alunni stranieri che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado di Prato, realizzata dall'assessorato alle politiche di cittadinanza in collaborazione con gli istituti scolastici. La rilevazione, che coinvolge circa 5.000 studenti, ha l'obiettivo di avere una fotografia attuale di come si parla l'italiano e le due all'interno delle scuole del territorio, ma anche sostenere la realizzazione di una programmazione sempre più adeguata e rispondente alle esigenze di inclusione scolastica, sia da parte del Comune di Prato che degli istituti scolastici. Le attività sono realizzate attraverso l'appalto per l'affidamento di attività di facilitazione linguistica, didattica inclusive e mediazione linguistico-culturale, attualmente gestito dal Consorzio Metropoli, con le consorziate sul territorio Cooperativa Panerrosa e Cooperativa Alice. I risultati dell'attuale mappatura saranno messi in relazione con quelli ottenuti nella rilevazione effettuata nel 2018, in modo da poter comparare le evidenze e delineare un trend degli apprendimenti sul territorio. Assieme all'appaltatore il Comune ha deciso di fare una mappatura dei livelli linguistici di ogni singolo bambino che è nelle nostre scuole. Questo anche per adeguare poi gli strumenti didattici in favore di tutti evidentemente, non soltanto dei bambini che sono non nati in Italia o che non hanno i genitori cittadini italiani. Quindi da iniziato in questi giorni, da qui alla fine del mese di dicembre, ci sarà una mappatura individuale per capire come correggere il tiro, come aiutare ulteriormente questi alunni e ovviamente tutto il contesto scolastico di riferimento. Pesanti disagi sulle linee ferroviarie toscane a causa dello sciopero indetto per la giornata di oggi dalle segreterie regionali dei sindacati Filt, Fit, Wilt, UGL, Fast e Orsa del personale front line di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana della Regione Toscana. La stensione era stata annunciata dalle 11 alle 15 ma le ripercussioni si sono protratte anche in serata. Molte tratte sono state soppresse e da Firenze e Santa Maria Novella in questo momento non ci sono treni in partenza verso Prato. Tante le segnalazioni arrivate anche alla nostra redazione. Lo sciopero è stato indetto per protestare contro le aggressioni subite dal personale del gruppo FS addetto al front line. A 77 anni dalla morte il soldato Giuseppe Pacini è tornato a casa, era partito per il fronte ed è morto nel 1944 in un campo di prigionia in Germania. I suoi resti sono stati rimpatriati e adesso riposano nel cimitero della misericordia insieme a quelli dell'amata moglie Rovena. Oggi è un giorno speciale perché siamo riusciti a riportare nostro nonno finalmente a casa. È morto in un campo di prigionia ad Hamburgo nel 1944. Un giorno speciale per noi che siamo sopravvissuti e per la nostra nonna, la sua moglie che lui ha lasciato quando aveva 32 anni con due figli piccoli e lei lo avrebbe aspettato a braccia aperte. Oggi è un giorno speciale per tutti. A 77 anni dalla morte il soldato pratese Giuseppe Pacini è tornato a casa. Era partito per il fronte in Albania durante la seconda guerra mondiale dove venne catturato e spedito in un campo di prigionia in Germania. Qui morì per una malattia nel 1944 e il suo corpo fu sepolto nel cimitero italiano militare d'onore di Hamburgo. Per anni la moglie Rovena ha sperato di poter riavere i suoi resti mortali. Ci sono riusciti i nipoti Lorenzo e Cecilia, figli di Leonardo, il bambino rimasto orfano ad un anno, del soldato Giuseppe. Due anni fa Lorenzo e Cecilia riuscirono a portare Leonardo sulla tomba del padre ad Hamburgo. Lì si accorsero che su alcune lapidi di caduti di guerra era stato scritto rimpatriato. Così, con il supporto del consolato italiano ad Hamburgo e la misericordia di Prato, inizia un lungo iter burocratico che si è concluso proprio in questi giorni. Arrivati in Italia i resti del soldato Pacini hanno ricevuto gli onori militari alla caserma Perotti di Firenze e poi sono stati tumulati nel cimitero della misericordia insieme a quelli della moglie Rovena scomparsa 23 anni fa. È tornato come soldato e come marito e come nonno e noi siamo felici. Come padre. Grazie. Un uomo di 47 anni è morto per soffocamento dopo aver ingoiato un boccone di cibo. La tragedia è avvenuta ieri dopo le 19 davanti al bar della misericordia di Montemurlo. La vittima è un disabile che stava facendo un aperitivo insieme alla madre e alla sorella. Mentre stava mangiando un panino, un boccone gli è rimasto incastrato in gola ostruendo le vie aeree. Sul posto erano presenti due soccorritori della sezione di Montemurlo che hanno provveduto a compiere le manovre di disostruzione e poi di rianimazione perché nel frattempo il 47enne era svenuto. Immediata la chiamata al 118 che ha inviato presso la sede di via Contardi un'automedica da Quarrata e un'ambulanza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i sanitari ne hanno constatato il decesso. Adesso siamo ai numeri che riguardano il Covid. 17 nuovi positivi sul territorio pratese e nessun decesso. È il dato emerso dal bollettino giornaliero della regione toscana sulla pandemia. I nuovi casi sono così suddivisi. 10 a Prato, 4 a Cantagallo, 2 a Montemurlo e 1 a Vaiano. Nell'Asle Toscana Centro i casi totali registrati sono 150, in tutta la regione 285. Le persone decedute per Covid in Toscana sono state 5. Si torna a parlare degli scavi di gonfienti. A farlo non sono le istituzioni ma un gruppo di cittadini che hanno raccolto 1500 firme per chiedere di allestire nel fienile di Villa Nicolini il Museo Etrusco di Prato. Sono oltre 1500 le firme raccolte dalla petizione per allestire a Prato il Museo Etrusco. Il documento è stato presentato a pochi giorni dall'organizzazione della settima camminata per gonfienti a cui hanno preso parte una cinquantina di persone. L'obiettivo dei firmatari è quello di creare un museo nelle vicinanze dell'area archeologica di gonfienti nel dettaglio nel fienile di Villa Nicolini che come ribadito dai promotori della petizione costituisce esso stesso un manufatto oggetto di scavo e quindi di vincolo. Nella raccolta firme si sottolinea come quello sia il punto più opportuno per costruire l'antiquarium e il centro visite per valorizzare l'area e renderla visitabile. Non a Campi Bisenzio. Il comune di Prato aveva scelto Villa Nicolini, cioè che è a ridosso degli scavi, anzi sotto c'è un bellissimo decumano etrusco, cioè nel Villa Nicolini significa il fienile di Villa Nicolini. Perché? Perché se i reperti si portano lontano, anche se Campi non è lontano dal sito, si aiuta a quell'opera di oblio che sembra le istituzioni, volontariamente o no non lo sappiamo, vogliano proprio per il sito. Nella petizione viene ricordato come la zona archeologica non sia indicata da nessun cartello né visitabile e si sottolinea l'oblio comunicativo nei confronti dell'area etrusca. È un rischio reale perché ultimamente, mi riferisco anche agli ultimi mesi, agli ultimi 18 mesi, i cancelli dell'area archeologica di Confianti sono stati sistematicamente chiusi e quindi anche quelle sparute occasioni che si sono avute nel passato, in occasione delle giornate dell'archeologia a luglio, negli anni passati, sono mancate. Quindi l'ultimo appuntamento per la cittadinanza, per sapere cosa succede a Confianti è stato il 26 settembre del 2020. Quindi non c'entra più di tanto il Covid perché effettivamente quest'anno è stato saltato in maniera ingiustificata, per esempio. Ci spostiamo a Montemurlo perché domani torna la prevenzione sanitaria gratuita con l'iniziativa Lions in piazza. Saranno 16 le patologie per le quali sarà possibile richiedere una visita specialistica. Domenica 24 ottobre in piazza della Costituzione a Montemurlo ci sarà la possibilità di fare un elettrocardiogramma oppure una visita urologica o sottoporsi ad una misurazione della vista e della postura, il tutto gratuitamente. Tornano i Lions in piazza, l'iniziativa dedicata alla prevenzione sanitaria promossa dai Lions Club e Leo Club Montemurlo e Lions Club Curzio Malaparte Prato con il patrocinio del comune di Montemurlo. Sono 16 le patologie per le quali sarà possibile richiedere una visita specialistica. Dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 in piazza della Costituzione i cittadini potranno richiedere fino a tre prestazioni diverse. L'accesso avverrà tramite un'accettazione che verrà effettuata direttamente sulla piazza, cominceranno alle 6.45 del mattino a fare le prime accettazioni per gli esami ematici e così a seguire per tutta la mattinata fino alle 13.00. Le visite vere e proprie invece inizieranno alle 9.30 del mattino e continueranno fino alle 13.00 per poi riprendere alle 14.30 e terminare alle 18.00 del pomeriggio. Tutto si svolgerà nella piazza della Costituzione a Montemurlo tranne alcune patologie, in particolare gli esami ematici che saranno effettuati invece agli ambulatori della misericordia di Montemurlo. Novità di questa edizione, la settima dopo l'anno di stop dell'anno scorso, è la possibilità di effettuare le vaccinazioni anti-covid grazie alla disponibilità dei medici di medicina generale di Montemurlo. Chi deve fare la prima dose del vaccino può presentarsi in piazza della Costituzione senza prenotazione dalle ore 9 alle 10.30, mentre dalle ore 10.30 in poi si procederà con le vaccinazioni terza dose per il personale sanitario. Diamo la possibilità a chi ancora per impossibilità, per una convinzione ancora non completa o per altri motivi ancora non si è vaccinato. Turismo e promozione del territorio a Poggio Accaiano è stata presentata una nuova iniziativa. Vediamo di che cosa si tratta. Una web app per far conoscere il territorio. È quello su cui è appuntato il comune di Poggio Accaiano, che ha presentato il risultato della collaborazione con la start-up qualcosa da fare. Per accedere alla web app basterà inquadrare un QR code presente su Vetrofanie e Cavalieri senza dovre scaricare alcuna applicazione. Il turista, ma non solo, anche i residenti o chiunque vuole informazioni su Poggio Accaiano ha la possibilità di conoscere quali sono le offerte turistiche di Poggio, quindi a partire dalla villa, ma al museo soffici e non solo. Oppure percorsi outdoor, ma anche le attività commerciali di interesse, dove dormire, in contenitore, dove si può accedere anche agli eventi che di settimana in settimana si susseguono sul nostro territorio. Poggio Accaiano, insieme ad altri comuni del Montalbano e oltre, sta cercando di creare una sua identità turistica basandosi sul motto Il Rinascimento Fuori Porta. Fu infatti questo, e non il Chianti, il territorio prediletto dai medici. Qualcosa da fare non è visibile solo a Poggio Accaiano, ma anche in tutti i comuni che hanno aderito a qualcosa da fare, così che se il turista si trova a Vinci può vedere quello che c'è da fare a Poggio Accaiano e viceversa, così da mettere rete comuni che sembrano così lontani, magari per provincia o per ambito turistico, ma che in realtà sono vicini e la condivisione del turismo di questi tempi penso sia la forza migliore per promuovere i propri territori. La prima vetrofania è stata posta sulla vetrina del Bar Cavalieri, che ha ospitato l'evento di presentazione della web app. Il direttore di Confesercenti Prato, Antonio Marradi e Marco Antraciti di Confcommercio hanno ben accolto l'iniziativa, ma hanno lanciato un appello per un maggiore coinvolgimento degli esercizi commerciali di Poggio Accaiano. Negozi, bar e ristoranti possono apparire sulla web app semplicemente contattando qualcosa da fare, che si occuperà di creare e aggiornare una scheda ad hoc. La misericordia di Iolo compie cent'anni di vita, un anniversario importante per la sezione nata per volontà di un gruppo di parrocchiani della Pieve di San Pietro nell'ottobre del 1921. La speciale ricorrenza sarà ricordata domani con una messa presieduta dal Vescovo Emerito Gastone Simoni. Durante la celebrazione eucaristica, che inizierà alle ore 11.15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro, ci sarà la cerimonia di vestizione dei nuovi confratelli e delle nuove consorelle. Al termine è in programma l'inaugurazione di due nuovi mezzi a disposizione della confraternita. Ed è stata inaugurata questa mattina a Palazzo Buonamici la mostra fotografica per i 50 anni di sport e motori che ripercorre la storia e l'amore dei pratesi per i bolidi. L'allestimento sarà visitabile fino al 31 ottobre. La mostra praticamente ripercorre, come ho detto, questi 50 anni la nostra partecipazione in posizioni diverse, nelle varie associazioni che hanno dato vita alle manifestazioni motoristiche nell'ambito del pratese. Ricordiamo tutti i piloti pratesi, ricordiamo i risultati che hanno ottenuto nella loro carriera. Qualcuno è arrivato a vittoria anche a livello di campionato europeo, qualcuno ha vinto una gara di mondiale, per cui tanta soddisfazione per quello che la scuderia ha fatto in questi 50 anni. Il giorno 28 abbiamo qua come ospite Carlo Cavicchi, che è stato direttore di Autosprint e direttore di quattro ruote e con lui festeggeremo insieme agli ex soci i rimasti i 50 anni del club Autosprint di Prato, che è stato l'inizio di tutta questa carriera motoristica per tanti di noi. Il giorno 30, invece sabato 30, ci sarà il consueto revival del rally Coppa Città di Prato sulle strade della Val Bisenzio di notte, come consuetudine, per ricostruire l'atmosfera del rally. Dopo oltre un anno e mezzo di stop forzato a causa della pandemia, ritorna il tradizionale appuntamento con il burraco nei locali della Croce d'Oro. Mercoledì scorso si è tornati a giocare sui tavoli di Via Niccoli alla presenza di una quarantina di appassionati. Adesso l'iniziativa verrà ripetuta tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15 alle ore 19. Il gioco è aperto a tutti, sono obbligatori Green Pass, l'uso della mascherina e all'ingresso ci sarà la misurazione della temperatura. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 347 76 036 24. Continuiamo con lo sport calcio, partita casalinga per il Prato, atteso domani dalla sfida con il Sasso Marconi, squadra rivelazione di questo avvio di campionato. Fischio d'inizio alle 14.30, ci presenta la partita il nostro Massimiliano Masi. Prossima uscita, Sasso Marconi. L'autostrada del campionato di Serie D, Gironedì, propone per il Prato la partita casalinga in programma domani alla Piero Torrini di Sesto Fiorentino con inizio alle 14.30 contro il Sasso Marconi. Una sfida ad alto rischio per la squadra daniera che affronterà la vera e propria sorpresa di questo avvio di campionato. Il Sasso Marconi, quarto in classifica, che ha avuto un avvio di campionato davvero sprint. Il Prato, reduci dalla brillante vittoria ottenuta sul campo della Bagnolese, cerca conferme, più che altro ancora autostima per cercare di fare il definitivo salto di qualità. La vittoria di Bagnolo in piano ha rilanciato il Prato, che ha saputo stringere i denti e nel finale dare la stoccata a vincende, mostrando maturità e capacità di rimanere sempre in partita. Per la sfida con il Sasso Marconi, allenato dal tecnico La Rocca, il Prato dovrà rinunciare a ferretti e rumiti infortunati, oltre a maltezzi per il quale la stagione è ormai finita. Il tecnico Marco Amelia non si sbilancia sulla formazione da mandare in campo e come al solito mantiene tutti sulla corda. Il tecnico Laniero riproperrà il consueto modulo 3-5-2. Questa ormai è una certezza, mentre sugli interpreti sono un paio almeno i dubbi da sciogliere. Per quanto riguarda la formazione iniziale, proviamo ad abbozzare un'ipotesi. Compagnini in porta, difesa 3 con Angeli, Cestaro e Shannamè. A centrocampo, larghi sugli esterni, Lugnan e Grillo con Nicoli, Dorsi e Soldani. In attacco la coppia formata da Renzi e Aleksic. Il Prato cerca il poker di vittoria in campionato contro il Sassomarconi dei Miracoli in una sfida che promette scintille e che, numeri alla mano, difficilmente finirà 0-0. Gli amanti della Cavala hanno già preso appunti. E allora siamo al momento dell'agenda, sfogliamola insieme per scoprire gli appuntamenti in città e in provincia per domani e lunedì. Domani, domenica 24 ottobre, alle ore 15, Boschi e Frugiate. Al centro visite della Cascina di Spedaletto, inaugurazione del percorso botanico nei dintorni della Cascina e dalle ore 17, Castagne e Vimbrulè. Alle ore 17, a Palazzo Datini, 1512, il Sacco di Prato, inaugurazione e presentazione della mostra dedicata all'evento più tragico della storia pratese. Introduce, Nicola Di Filippo, proiezioni dei filmati del regista Mirco Rocchi. Alle ore 17.30, al Teatro Borsi, avviso ai naviganti, concerto del giovane cantautore pratese Edoardo Michelozzi. Lunedì 25 ottobre, alle ore 18.30, all'antico chiesino di Narnali, inaugurazione dei lavori di restauro del chiesino, alla presenza del Vescovo Nervini e del Sindaco Biffoni. Alle ore 9, al Cinema Terminale, la Scuola di Cinema Anna Magnani presenta i cortometraggi realizzati dagli studenti e i nuovi corsi per l'anno 2021-2022. Non ci sono aggiornamenti, quindi si chiude questa edizione del Telegiornale. Restate con noi su TV Prato. Al termine andrà in onda la consueta rubrica del Vangelo della Domenica. Questa sera la riflessione affidata a Don Massimiliano Ricci. Io vi do appuntamento a domani con l'informazione, ma per essere sempre aggiornati potete consultare il nostro sito rinnovato tvprato.it. Arrivederci e buona serata.